Hey guys! Vorrei approfittare di questo splendido posto per annunciare l'inizio, l'apertura del mio nuovo blog che si chiamerà Aspirazioni on the road e che cosa farà questo, quale sarà l'oggetto di questo blog cioè praticamente racconterò tutto quello che succede nelle cucine, tutti i segreti delle cucine ma non solo legato all'aspirazione, quindi vorrei concedermi questa libertà di poter recensire le cucine e i loro prodotti a prescindere dal mio lavoro che si tratta appunto di impianti di aspirazione quindi vorrei essere più o meno imparziale dove chiaramente i ristoranti che meriteranno delle recensioni positive faremo ovviamente i nomi a prescindere se sono o non sono dei clienti della Gargiulo e naturalmente quelli che insomma hanno qualche criticità saremo ben attenti nel pronunciarci insomma comunque restano sempre delle aziende quindi a volte magari delle recensioni negative possono comunque compromettere tanti sacrifici da parte un po' di tutti quindi cercheremo di avere un po' maggiori attenzioni quindi mi raccomando iniziate a seguirmi se ne avete voglia, tempo, insomma così e vi racconterò qualche segreto in più di queste nuove avventure quindi Aspirazioni on the road